La riapertura delle scuole in sicurezza è possibile, si può fare con lo screening generale a tutti gli studenti. Finalmente il governo sta analizzando la nostra proposta, è l'unico modo per finire la scuola in presenza il più possibile e finire l'anno scolastico in maniera ordinata. Non c'è alternativa ai tamponi veloci agli studenti, perché i ragazzi sono fuori dalla campagna di vaccinazione, fino ai 16 anni non lo faranno e i più grandi lo faranno quando l'anno scolastico sarà già finito. Allora se davvero crediamo nella riapertura della scuola in presenza bisogna organizzare lo screening. Noi a Pesaro comunque lo organizzeremo, siamo già pronti per farlo nelle scuole medie e nelle scuole superiori e se lo facciamo noi a Pesaro lo possono fare nelle regioni, a iniziare dalla regione Marche e lo può fare il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione per tutto il Paese.